In questo numero del SaustiG, gli esperti. La diabetologia italiana è fra le migliori al mondo, ma serve un piano nazionale. Per il 50% dei medici di famiglia, la crisi ha fatto peggiorare lo stato di salute degli italiani. Troise, senza la proroga dei contratti dei precari, strutture a rischio collasso. Fare il bilancio delle azioni svolte fino ad oggi e nello stesso tempo disegnare i passaggi per il prossimo futuro, per un'assistenza ancora più personalizzata e in grado di corrispondere alle esigenze delle persone malate di diabete. Questi gli obiettivi del piano nazionale diabete ancora all'esame della Commissione Stato-Regioni e tanto atteso dal mondo della diabetologia italiana. Negli ultimi 15 anni una riduzione del 30% delle amputazioni per lesioni da diabete e degli arti inferiori, un 30% della riduzione di mortalità associata con diabete, che vuol dire che la diabetologia italiana c'è, è viva, lavora per preservare la qualità di vita delle persone con diabete. Se coniuga questa osservazione con il fatto che la distribuzione a livello nazionale è ancora macchia di leopardo, la prima soluzione che traspare è quella che forse basterebbe rendere omogenea questo trattamento. Più poveri e malaticci. La crisi economica sta facendo sentire i suoi effetti anche sullo stato di salute psicofisica degli italiani. È quanto emerge da un'indagine del Centro Studi della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Analizzando le tabelle dello studio balza infatti agli occhi che per il 50% dei medici con la crisi economica lo stato di salute degli italiani è peggiorato rispetto a qualche anno fa. Se non verranno immediatamente prorogati i contratti a tempo determinato flessibili o atipici che riguardano decine di migliaia di addetti dell'SSN, si rischia il collasso di molte strutture in occasione delle prossime festività. A mettere in guardia è Costantino Troise, segretario nazionale a Nao Assomed, dopo l'allarme lanciato dal ministro Patroni Griffi sui precari della pubblica amministrazione che difficilmente potranno essere stabilizzati tutti.